Salve a tutti, ciao, ciao, benvenuti da Gabriel, Aurora e Gianluigi e Trimusche Meeples. Questa recensione si occupa di Santorini e dell'espansione Golden Fleece, il vello d'oro. Santorini è un gioco astratto di strategia per due giocatori, con variante per tre o due contro due giocatori, edito da Roxley Games. L'autore è il dottor Gordon Hamilton e gli illustratori sono David Forrest e Lina Cosette. La scatola indica una durata di 20 minuti, ma potrebbe durare anche meno. Originariamente pubblicato nel 2004, il gioco presentava i semplici blocchi di legno su una plancia a scacchiera. Nel 2016, una campagna Kickstarter di successo ha cambiato quello che era un gioco spartano, in un gioco bellissimo con illustrazioni adorabili e una plancia tridimensionale, che rappresenta l'isola di Santorini. Il gioco è indipendente dal linguaggio in quanto fa l'uso di iconografia per mostrare le abilità degli dèi. Inoltre, le regole sono correlate da illustrazioni che aiutano i giocatori ad imparare le stesse immediatamente. Al momento, il gioco è disponibile con regole multilingue. I componenti del gioco, oltre alla plancia, sono i due lavoratori per giocatore, i blocchi da costruzione, le cupole blu e le carte delle divinità. Il setup del gioco parte con il mettere sull'isola di Santorini sul pedestallo a scogliera. Poi, in una partita a due giocatori, il primo giocatore piazza entrambi i suoi lavoratori sulla plancia e lo stesso fa il secondo giocatore. Una partita rota intorno ai giocatori che, turno dopo turno, scelgono un lavoratore, lo muovono di uno spazio e costruiscono un blocco adiacente al lavoratore appena mosso. Un lavoratore può muovere e costruire sia diagonalmente che ortogonalmente. Mentre muove, un lavoratore può scendere da qualunque livello, ma può salire di un livello per mossa. Il gioco continua con i giocatori che costruiscono fino al terzo livello ed appena un giocatore è in grado di muovere un suo lavoratore su una costruzione di terzo livello, quel giocatore vince. D'altro canto, l'altro giocatore proverà a costruire una cupola che impedirà ogni movimento su quello spazio, di fatto negando all'avversario la possibilità di vincere. Quello che abbiamo fin qui descritto è il gioco base, ma è con le carte divinità che il gioco prende vita. Il gioco ha alta rigiocabilità proprio per le carte divinità. Prima che il gioco abbia inizio, il primo giocatore sceglie un numero di carte divinità pari al numero di giocatori e l'ultimo giocatore sarà il primo a sceglierne una. Al primo giocatore verrà data l'ultima carta. Ogni divinità ha abilità speciali che modificano sensibilmente le strategie ed anche le meccaniche stesse di gioco. Le divinità sono divise in due categorie, semplici e avanzate. Le divinità semplici sono ovviamente più facili da giocare. Inoltre le carte divinità mostrano se sono adatte al gioco per tre o quattro giocatori ed anche se possono essere scelte per giocare con l'espasione Golden Fleece. Tutti i poteri delle divinità possono cambiare il gioco giusto un po' o drammaticamente. Per esempio Artemis permette di muovere un lavoratore due volte prima di costruire. Athena nega al tuo avversario di salire se il tuo lavoratore è già salito di un livello. Atlas permette al tuo lavoratore di costruire cupole ad ogni livello e non solo al terzo. Pan offre vittoria immediata se il tuo lavoratore salta giù di due livelli. Prometheus permette al tuo lavoratore di costruire sia prima che dopo essersi mosso. E così via con divinità avanzate ed i loro poteri che rendono il gioco estremamente tattico forzando i giocatori a programmare meglio ed in anticipo i loro turni. L'espansione Golden Fleece, il vello d'oro, introduce altre divinità con nuovi poteri, eroi, la miniatura vello d'oro e nuove meccaniche di gioco. Gli eroi differiscono dalle divinità dal fatto che essi possono usare la loro abilità solo una volta per partita rendendoli molto meno potenti delle divinità. Peraltro gli eroi non possono essere usati insieme al vello d'oro. Durante il setup i giocatori devono scegliere una carta divinità che abbia l'icona del vello d'oro e piazzarla al lato della plancia. I giocatori non avranno una carta divinità personale ma condivideranno i poteri della carta in gioco. A questo punto il vello d'oro è posizionato sulla plancia dal primo giocatore dopo che entrambi i giocatori hanno piazzato i loro lavoratori. La partita si gioca nello stesso modo di una normale partita a due giocatori eccetto che per utilizzare i poteri della divinità il lavoratore selezionato deve essere adiacente alla miniatura del vello d'oro. Questo è un gioco di alta qualità. Cominciando dall'isola tridimensionale e continuando con i lavoratori che sono un uomo e una donna per giocatore i blocchi da costruzione, le cupole e le ispiratissime illustrazioni tutto è assolutamente gratificante da vedere. Le illustrazioni sulle carte oltre ad essere innegabilmente bellissime rendono le divinità e gli eroi assolutamente adorabili. Infatti il tema del gioco è che le divinità sono dei bambini che vanno fuori a giocare mentre Zeus può occuparsi dei suoi divini impegni ma anche avere un attimo di pace e di riposo. Nonostante il gioco che vedete adesso è un progetto Kickstarter Roxy Games non crede nella politica delle esclusive Kickstarter quindi tutto quello che vedete è disponibile all'acquisto. A noi il gioco piace moltissimo è al tempo stesso veloce da giocare e strategico è nostra opinione che sia il migliore del suo genere. Per oggi è tutto non mi resta che ricordarvi di sottoscrivervi al canale e di premere il pulsante mi piace Premete il pulsante della campana se volete ricevere notifiche quando pubblichiamo un video nuovo Aggiungete dei commenti per dirci cosa vuoi dai prossimi video e per dirci cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno o comunque qualunque suggerimento che pensate ci possa essere utile Un saluto da parte nostra Ciao 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 Alla prossima